Ferre, devo dire che hai fatto davvero, davvero, davvero un ottimo lavoro con questo creeper, sei stata bravissima a costruirlo, assidimi Cos'hai fatto al mio creeper? Eh, l'ho reso di Lucky Block Sì, ma era un creeper normale, i creeper devono essere verdi, Steph, perché adesso è giallo Perché praticamente oggi abbiamo un nuovo tipo di sfida con i Lucky Block ed è molto interessante Cioè, mi hai fregato, mi hai fatto costruire un creeper gigante, mi hai detto Fai Ferre, fai un creeper enorme che ci facciamo un video bellissimo e tu mi fai un'altra sfida di questi accidenti di Lucky Block, Steph No, no, hai detto tutti i dettagli, semplicemente Mi hai fregato, mi hai fregato di nuovo E se non ho un dettaglino fuori Non ti sono bastati quelli di Aerobrame? No, non ti sono bastati Praticamente dobbiamo semplicemente distruggere tutto il creeper Quindi distruggere 808 blocchi di Lucky Block Sì, li ho bastati Eh, vabbè, sarà facile Sarà facile, no? Siamo pronti? No, non ti parlo più, Steph Questo qua è il nostro equipaggiamento, quindi ci stiamo anche equipaggiando bene perché sarà una sfida davvero interminabile Qua abbiamo la scala per partire dall'alto perché secondo me conviene di brutto E non lo so, Fere, io credo che sarà difficile No, non ti parlo, Steph Non mi parli? Io faccio il video muta, sì Vabbè, ma tanto lo fai Hai rovinato la mia bellissima costruzione, Steph Finché collabori va bene No, non collaboro Allora, dimmi giusto una cosa Io voglio cronometrare quanto ci mettiamo perché sono curioso Però, aggressivi? C'è proprio a piccone e ne diceggiamo un botto alla volta? Oppure pochi? Sì, dai, allora ricordati che ovviamente il creeper Perché era un creeper normale, vuoto dentro Ecco qua, la testa è vuota, Steph, quindi Ok, io penso di essere morto Ho evocato un mini me e un lucky block gigante Mi sono fatto questi che sono utili per il resto Bah, mi sembrava abbastanza inutile che possiamo poi buttare Fere, tutto bene? No No? Sono appena morta Come mai? Cosa è successo? Non lo so, ne ho appartato in mente tanti che mi è apparso di tutto E sono stata sbalzata giù Tra TNT, mini me C'era un mini me Una strega, una witch Perché sto spawnando? Mi riesci a fare un teleport, Fere? Aspetta, Steph, c'è un problema Mettilo per iscritto Cioè, inizia a scrivere il teleport e tico via me lo tiri, ti prego Vuoi dire che comunque abbiamo aiutato bene L'abbiamo già bucato un sacco di roba Dove la faccia, l'hai vista, Steph? Sì, poverino L'abbiamo... No, witch No, 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 no Io sta... Cioè, pur di tirarmi... Si è buttato pur di tirarti C'è esplosa la scala Eh, ovviamente c'è esplosa la scala Eh, questo è un problema Con tutte le esplosioni che ci sono state Esplosioni? Io non ho sentito esplosioni Soltanto tuoni, Fere Quelli sì, quelli tanti Eh, beh, sì Allora, io faccio così Opla Non lo finiremo mai, vero? Non credo Come rientriamo adesso lì sopra? Non lo voglio scoprire Eh, però dobbiamo Ma se ne va sto robo? Che robo? Questa cosa gigante Eh no, si è un po' incastrato nella costruzione Ah, che noia Ok È un po' un casino fare questa sfida Io, io distruggo Io distruggo a massima velocità No, Steph Fai troppi disastri Ecco qua Ecco qua Cosa tutto è successo? Ma non lo so Allora È diventato notte Non so neanche perché Time set 5000 Ok Perché è qualche mostro Che ha fatto l'effetto della notte, Steph Sì Io sono caduta dentro un pozzo In questo momento Però controlla le cose Che tu prendi di equipaggiamento Perché è così Che noi possiamo risolvere le cose Capisci? Un sacco di libri inutili Un sacco di cose inutili Della TNT Eh, ma anche roba utile, no? No, per niente Se vuoi posso spawnare un ghast, però, eh No, grazie Ho un uovo, Steph No, no, no Ti interessa? Stai molto Ho un coniglio Ho un coniglio Guarda, questo è utilissimo Dai, farei che probabilmente È quello che attacca No, guarda È corino È tranquillo? Sì, sta saltando Non mi far cadere di sotto, maledetto Scusa No, le Lucky Potion Meno 100 No, io mi tiro le Ok Ok Ok, not bad Come ci riandiamo lì sopra? Eh, gli enchant book Ragazzi, non c'ho voglia Aspetta, butto tutto C'è un Lucky gigante in testa Mal hai visto? Dobbiamo fare esplodere Eh, appunto Teoricamente così facciamo esplodere un po' di roba, no? Eh, certo Ok, allora Mi prendo anche queste mele Scusa, coniglietto, ma sei in mezzo Uh, quanto salto Che succede, Fere? Ci sono delle ragnatele Ho attaccato il coniglietto Ho fatto delle ragnatele Va bene Usa la spada Così le rompi facilmente Vai, 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 vai Forza, Fere Vai Andiamo Cercando di rifare una scala, Steph Allora, io faccio la parte bassa, va Ok? Ok A dopo Oh, cavolo, Steph Stai esplodendo malissimo Beh, non male, non male Mi sa che ho trovato qualcosa che creava un fossato E quindi sono riuscita a fare un bel buco Ce ne siamo liberati, esatto Di un po' di blocchi Ok Allora, questa hero chestplate è più forte della mia Piano piano mi sto equipaggiando fortissimo È abbastanza difficile Però ce la si sta cavando È ovvio Perché si cade in continuazione Quello è il problema Ah, ma che? Non sono mai caduto Ah, io vorrei andare sopra Per far esplodere qualcosa Ma qui ci arrivo? Eh, non lo so Però ci devi arrivare, Fere È il tuo compito Faccio così Mi raccomando Tanto poi qua esplode tutto Uffa, mi ho perso tutti i buff che avevano Fortissimo Che noia Vabbè, ne è valsa la pena Secondo me ha fatto comunque un bel buco Allora, adesso io vado qua Se mi prendessi Sei caduta? No, mi sono buttata Perché ho fatto esplodere qualcosa, Steph Ha fatto esplodere anche Lucky Block? Cioè abbiamo guadagnato lavoro? Qualcosina Ok Il problema è che come ci torno mo su? Non ho idea Non ne ho idea, mi spiace Io ho delle Ender Pearls, voi Sei abbastanza mirata? No, Steph È impossibile andare lì sopra Perché? Che sei matto È troppo Aspetta, provo? Vai, provaci tu Vediamo No, stai tornando qua Stai tornando qua Anzi, è caduta sotto Quindi, Steph Non andrei mai da nessuna parte Guarda, questa è giusta Sì Fatto Sono su Sì Ok, perfetto Guarda chi c'è, Fere Puoi cadere? No, sono caduta da sola guardando a testa Perché mi devi distrarre? Allora, raga No, io ce la faccio più È il momento delicato Ok Ok Devo cercare di resistere qua sopra Perché risalire qui non è semplice Di conseguenza Devo cercare di rompere il più possibile ora Raga, non devo morire Non mi andare a sfiga Ok, tutto a posto Mi fa cadere Mi fa cadere quello stavo torrando Io? Tu, sì Davvero? No, un altro, Steph Vedi qualcun altro qui Chiedo perdono Però sono stato bravissimo Guarda quanta roba ho fatto Sì, abbastanza Dobbiamo liberarci di quelli di sopra Perché ogni volta è uno stress risalire lì Hai distrutto Lo so Va bene Esplosa, non l'ho distrutta Ma qua sembra che l'ho fatto anche apposta Hai capito? Eh, un pochino Sono saltato in aria Porca miseria Ok Allora Ok Se noi trovassimo un accendino Io potrei sfruttare la TNT che ho Per far saltare in aria tutto E mi sa che ho appena visto Della redstone per poter attivare Oh, yes Sto per fare Anche io ho della TNT Ma purtroppo non la posso Sto per fare un disastro Allora Se torno su Faccio un casino Te lo dico Ok Rompo, 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 rompo Ok Allora Come torno su però adesso? Mi ricollego a quello che ha fatto Fere È da qua Ok E Ender Pearl non l'hai mai più ritrovato? Mi sa di... No Uffa Non ne ho neanche una Sei tutto su? Ci sto provando Stef È quello che sto provando a fare Ok, ciao Fere Sono vicino a te Ti seguo Andiamo Ho sbagliato Non so dove andare Come ci andiamo lì sopra? Forza, forza Continua Facciamo una scala qua e po' Emo? Così Perché non posso? Ah Così Ecco, ecco, ecco Ci siamo, ci siamo Eh sì, ci sei Soltanto tu Ok, fatto Opla, 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 opla Che dici? Prova a mettere la TNT O rompiamo così? Rompiamo così, va Ah sì Ok Un sacco di blocchi Mi ha dato questa ceste Prima che Stef mi facesse cadere Non sei caduta? Sì che sono caduta Stef Sono sotto Ah Mi dispiace Io spacco, spacco Prima di morire Prima che mi attacchi tutte queste ucce Mi è capitato quello Uno è fortunato Uno è sortunato E ho beccato quello sortunato Ah Ok, ok, ok Prima di esplodere Con della TNT Che mi è cascato in testa Almeno ho distrutto Un sacco di lucky block Stef Perfetto Quindi ce la sto facendo Allora Io sto preparando La mia trappola Non far casino Ok Dai Ma che sfiga è? Dove sono finita? Perché sono qui dentro? Eh perché Adesso esplodo No, abbiamo avuto fortuna Ok Allora Ma sei caduta di sotto Che fortuna è Stef? Cioè che fortuna è cadere di sotto E riniziare a fare sempre le solite scale È fortuna Perché non è esploso Quindi è fortuna Allora Io ci provo Io ci provo a far casino No Stef No, no Non peggiorare le cose Tanto quando tu vuoi qualcosa peggiori e basta Ecco qui, ecco qua Sai che forse Sai che ha fatto cadere Stef? Non lo so Indovina? Un animale? No Indovina Stef Non lo so Inpegnati un attimino di più Non ci arrivo Una volta che torna nei lucky block Fare guarda Sto andando benissimo Fare guarda Adesso c'ho uno scheletro Sopra un cavallo Che mi attacca nella base Quindi pensate come dovrei fare Stef Aspetta Sto sopravvivendo anche alla lava Cosa ha tutto preso di buff raga Ok Ok Che lucido Ho messo fine alla mia vita La TNT mi sa che non fa esplodere i blocchi di lucky block Quindi non è una buona idea Avrebbe senso Avrebbe senso Lo so Quindi non posso fare questa roba Allora Assolutamente no Facciamo che butto un bel po' di cose Perché non ho potuto raccogliere delle enderperle Ci sono delle enderperle in giro Se le raggiungi Le puoi ristruttare per andare in alto E finire la parte alta Allora a quel punto saremmo messi benissimo Per la sfida Di completare tutto il creeper Allora Lucky bow Ok Ma ce l'abbiamo uguale Esatto Canna da pesca La buttiamo Fare respira È tutto a posto Stai bene Una bella giornata Il cavaliere Sì Quello là Quel maledetto Ci provo Perché continuo a buttarmi giù Perché li hai tirato TNT Quest'arco tira cose a caso Ah Vedi Ogni tanto cose belle Gli ho appena tirato un uovo Io ti atto mob Un creeper che esplode Eh vabbè Vabbè Non è andata bene Non è proprio un arco classico Capisci No ho notato Ho notato Quando ci servirebbe almeno un arco classico Lo so Per cosa di normale in questa partita Però è andata così Allora Io vado qua Ok Sì Distruggo È diventata notte? Sì Però distruggo tutto Ok Sono caduta su degli slime Sto bene Qui sotto però Qui sotto Aspetta Togliti Che succede? Dei silverfish che mi spingono Uff Abbiamo quasi finito Dici? Sì Aspetta Ci sono questi maledetti di silverfish L'ho visto da lontano E siamo messi benissimo Allora Però scheletro Devi morire Ci sono dei lucky block ancora qui sotto Però Dobbiamo completare tutto Io non riesco a scoprirlo Questo coso che Cos'era quella spada? Sotto ce ne sono tanti Stef Bisogna stare attenti Eh ho capito Eh però se non finiamo quelli di sotto È un problema Non lo completiamo tutto Silverfish Quanti siete esattamente qui? Due? Due vi posso Uccidere Ok perfetto Ok vai Allora Tu vai in basso Io vado in alto? Sì Sì Non è posto più di salire Continuo a salire e cadere Quindi basta Ok Mi metto qua Ok Vorrei andare nella parte più bassa In assoluto Perché quella è un problema Ci sono i pozzi Ci sono un botto di roba Ahah E quindi Se non finiamo quella parte Comunque non possiamo Completare tutto Solo di cosa parli purtroppo Ragazzi Vi dovete spostare Cosa avete fatto? Scendo così Scendo così Ma che casino avete fatto qua? Che ci arrivo da qui? Ma vi dovete togliere Ok Allora Non siamo proprio nella parte più alta Secondo me conviene che salgo ancora raga Se ho un po' di fortuna E non devo mai dirla questa frase No 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 Vai via Vai via Quindi non la diciamo Va Allora via Ok Perché? Ok Tu cedono cose brutte qui Steph Ho del latte Meno male Cioè mi sono preso una mining fatigua lunghissima Starei stato fregato per sempre Mi spiace Steph Sì Mi spiace Allora raga io questa cosa non lo apro Mi rifiuto Non riesco a uccidere sto robo Dai C'è un guardian Steph Che non mi fa andare avanti Uh Ok Questa è stata skillata raga Che distruggo il lucky block sotto Così prima o poi caschi Maledetto Ok Dai smetti L'hai rotto le scatole Ok Per il resto non ando bene Sì anche io Steph Oh ce l'ho fatta No è promettente Fere la parte alta era la più difficile Quindi sii felice No un pozzo Sii felice Fere Stay positive Non sono per niente felice Steph Ce la facciamo Ci credi me? No per niente Steph Grazie Anche perché la parte bassa è un disastro È pieno di mob È pieno di mob Quindi è quasi impossibile andarci Ok Ogni volta che ci vado Però la parte alta Mi capita qualcosa di brutto E quindi non riesco a continuare Ok ma ho finito la parte alta Ma quando mai Sì Ma se ce ne sono ancora Qua dove sono io E basta È tutta la lava Steph Ecco la lava Ma facciamo fare i lucky block Che stanno sotto la lava La domanda vero? Facciamo esplodere Ok aspetta Sta cadendo Sta cadendo Perché hai tolto la fonte Quindi sta andando via Piano piano Non è che ho tolto E sponotto sto roba gigante E vabbè è uguale L'importante è che non ci sia più Cioè ho avuto due volte fortuna Incredibile Ecco sta ricadendo la lava Sì No dai Steph Ti prego E che ci posso fare io? Togli quell'altra fonte Vado a provarci Dov'è? Dov'è la fonte? Altrimenti lucky block Qui non li finiamo È impossibile Posso provare a fare così E posso provare a fare Tipo così Oh no Oh no Sta bruciando la legna Ha funzionato Ha funzionato Allora raga Qua in alto non ne vedo più Devo cercare di vedere Quali sono quelli Più vicini Da dover fare ancora Ok Vediamo tipo da qua Se c'è qualcosa Che devo fare Aspetta io ne vedo Comunque qualcuno Vedi? Eh sì Prontate lì C'è qualcosa Ok Ok Eh vabbè Mi è capitata la piramide Che ne mette altri sei Che fortuna eh Va bene Ok allora Ce l'ho fatta No da qui È pieno di lava ovunque Ecco qua Ecco qua Esploderò Ok Almeno Dai la lava no Però non possiamo finirli Se c'è tutta sta lava Continua a scendere Raga ma perché mi son bloccato qua? Mi son bugato? Sembra un bug Sembra un bug Non mi posso più muovere Ok Vabbè provo a rompere questo Prima o poi ce la faccio Probabilmente Mentre sta soltanto arrivando la lava Sembra un film horror Io vado su Voglio tapparla sta lava Anzi no Sta scendendo Sta scendendo Sì ma io l'ho già tappata da due ore Scende ma piano piano Perché non possiamo finire Lì sotto è pieno di lucky block Capisci? Lo so Sai che mi si è rotto anche il piccone? Bene Ha furia di usarlo Eh bene Bella notizia questa staff Molto molto bella Solo belle notizie Dai lava Cioè non è possibile Solo belle notizie per noi Ok Mi sto nervosendo E sto per chiudere tutto staff Non puoi Sì che posso Faccio esplodere tutto Sì che posso Ok Cerchiamo di andare da un'altra parte Sto bene Completo Ma perché mi incastro e basta oggi Ok Ok Allora ma sta pure facendo bruciare tutto Che no Ma che vuoi tu Oh no Oh no Ok L'ha appena ucciso Ok aiuto Mi è venuto un colpo Lo so anche a me Allora A questo punto Continuo a bruciare Basta A questo li togliamo Togliamo Ciao gattino Eh Dai lava Via Allora Siamo a 16 minuti Ok Stef ho creato senza volerlo Un cobblestone generator automatico Continuo a piccolare Ma continuo a respanare il cobblestone Perché ci sono acqua e lava E da solo si è creata sta roba Vabbè È molto divertente Molto sì Allora Butto 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 Ah raga Ma io sto andando qua Però non vedo altri lucky block Penso che quelli che siano rimasti Sono sotto la lava Abbiamo pressoché finito C'è davvero pochissimo Che continuano E quindi è diventato molto difficile Vedere le cose Dai lava Che noia Perché secondo me questa qua è un'altra fonte di lava Eh vabbè Però pian piano scende Lo vedi che scende È molto lenta Però scende Non abbiamo un secchiello vuoto Qualunque cosa No vero Eh sì uno sì Acchiappa Non credo di poter acchiappare se sta scomparendo Tu vai via Allora Di sicuro io ho visto Che tipo al centro non ci sono più lucky block Ce n'è uno In alto tipo nascosto Che stanno andando a fare Ah eccolo eccolo lo vedo Aspetta ci sono io Ah sì Fatto Sta esplodendo tutto vero No Per fortuna Per fortuna erano fuochi d'artificio e polletti che volano A post Ok Ok la lava sta scendendo un botto eh Ok Penso che abbia funzionato quello che hai fatto Non lo so Eh sì Penso di sì Questo quella Ah ma c'è un altro lì su Questo Eccolo No 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 Ti prego non voglio esplodere Ciao Fere Ok ce l'ho fatta Io no Sopra quindi sono finiti Ok sopra è tutto finito Ok Letteralmente Tutto Tutto Ce la stiamo facendo Ora manca leggermente qua ed è fatta Qua Questo qui sotto guarda Cioè Raga che mission impossible stiamo completando No 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 Stavamo completando Mi dispiace È andata male L'ultimo Miau Io continuo a ripeterlo ma è l'ultimo Basta Ma non lo sai che tanto Non andrà così Perché mi freghi È solo per quello I consolini buttano un botto di likes È colpa loro È colpa loro È colpa loro Death counter È ma raga come ne esco però Non lo so Mi piace Miau 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 Vai via gatto Miau Miau autofogo Ho perso soltanto tempo Questa è la morte peggiore Perché è pure lunga Vai feria Spacca tutta raffica Vai velocissima Cosa succeda Ok Ok Guarda che manca poco Guarda che manca poco Dopo i creeper Secondo te che costruzione faremo? Tipo una tartaruga Così a caso No magari ha senso sempre un altro mob di minecraft Tipo uno zombie Tipo uno zombie Però facciamo scegliere i consolini dai Ok Sondaggio Sondaggino Sì 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 È divertente fare queste imprese Ovviamente poi inizieremo anche a cambiare il tipo di lucky block Così le cose che ci aspettiamo sono ancora meno prevedibili Ovviamente Ovviamente Ok Allora Ma abbiamo finito? No No Per niente Per niente addirittura Cioè manca ancora Manca ancora Ok Scusate Cavallo ti giuro Ti giuro Che se torno lì Ti tiro a sta freccia che Compaiono 42 di tenei Ah era un asino Ma perché sono morta? Mi ho aperto solo uno Was killed by magic Che quindi? Mi sa che ero io Ah Perché è vicino all'asino che ho squarato Mi sa che ti ho preso Non commento Scusa A che punto siamo Stef? A un ottimo punto Io non ne vedo più Esatto Questo è l'ottimo punto No Silver Vai via Vai via Allora Forse qui sotto c'è ancora qualcosa Io ne ho trovato qualcun altro che ho appena rotto Ok Io sto piccolando tutto per cercarli Un altro appena rotto Sa che abbiamo finito Vero Io non ne vedo altri Vero Che dici? Allora Faccio un giretto Volo in creative e faccio il giretto Dobbiamo essere sicuri Ok Ma secondo me non c'è più nulla Secondo me no Io ero proprio sotto Ancora più sotto di te Non ho visto minimamente niente Secondo me raga Abbiamo davvero finito Allora Vediamo Controllo sopra Finito al 100% Ok Qua non ne vedo Ok Totalmente sotto Finiti Finiti? Finiti Non ce n'è neanche uno Siamo stati bravi Sì bravi sì Con grande fatica Non ci provare Steph Tanto ho ancora la creative Quindi non mi fai nulla Guarda Vai via Ecco perché Ecco qua Ecco qua Adesso sì che è un bel mondo Adesso sì Non sono morto però Come non sei morto? No No Non più giù Comunque sì Finiti Finiti totalmente Allora In ogni caso Qua sotto Con per gli altri video Iscriviti al canale Se non avete ancora fatto Campanellina Un botto di likes Se volete vederci distruggere Altri tipi di mob Sempre di lucky block Con altri tipi di lucky block Sondaggio Per dire che tipo di mob Distruggere Quale tipo di lucky block Ok E ci fermiamo così Ciao ciao Ciao